C'erano anche i tempaci, i partiti bassi, però prima non abbiamo visto queste giocate, queste dove non c'erano per me, perché è stato il terreno dei giocatori, una giocata era stata chiusa, poi l'altro si è ricordato che prima della guerra c'era stata qualcosa, allora è finito il terreno, ma per papà, allora ero realizzato, la scuola, adesso potrà cancellare. Mister, che è successo tra il primo e il secondo tempo? Perché abbiamo fatto solo, penso che anche al primo tempo noi non abbiamo mai visto, ma abbiamo cercato di costruire, questo non siamo arrivati a noi, perché non abbiamo precisi, non abbiamo dovuto altre cose. Come giudica la partita di Ivano? Ha fatto una parata in contatto, però è stato attento e importante. In settimana aveva detto, non solo valutiamo il viareggio, che impressione l'ha fatto e se l'ha delusa, visto anche poi l'andamento della partita? Abbiamo fatto il saluto? No, abbiamo fatto il saluto a Foggia, ma no a Formula 1, siete d'accordo? No, non solo, non solo valutiamo la partita, ma non è vero, non è vero. Penso che questo risultato sia utile per trovare la continuità necessaria e forgete. La continuità vediamo le partite, perchéه che è un'ora di lì, noi lo stiamo cercando da lì, non lo abbiamo fatto da tutti, però anche qualche risultato positivo lo facciamo anche. Grazie.